Ciao a tutti e ben ritrovati oppure bentornati sul mio canale. Il video di oggi è dedicato, come avrete intuito dal titolo, ad una fragranza storica, un pilastro della profumeria che io amo moltissimo e sto parlando di quelques fleurs di Ubi Gan. Ubi Gan è una maison storica, una maison che ha aperto in battenti, pensate nel 1775, ed era anche una maison prestigiosa, pensate che perfino la regina Maria Antonietta utilizzava i profumi di Ubi Gan e ci sono tante leggende in merito a questa storia, una di queste leggende ad esempio vuole che la regina Maria Antonietta in fuga con la sua famiglia fu riconosciuta e tradita proprio per la fragranza che indossava. Travestita da donna del popolo, passo inosservata, ma quando le guardie facero un controllo più attento e accurato sentirono il meraviglioso effluio che proveniva dalla sua pelle e dai suoi capelli e fu subito riconosciuta. Non sappiamo se è verità, però questa è una delle leggende che si narrano. Kelk Flair fu creato nel 1912, questa non è una versione del 1912, io vi sto presentando Kelk Flair l'originale, che si presenta con questa boccetta carina che non mi fa impazzire, però quando la vediamo dal vivo vi assicuro che è molto meglio rispetto a come può sembrare nelle immagini, si sente che è comunque un prodotto di qualità perché è bella solida, abbiamo poi dei fiori che appunto sono a rilievo, che non vedete ma cercherò di farvele vedere appunto qui sul video e anche il tappo è abbastanza pesante, dorato, si sente insomma che è un prodotto di un certo tipo, non è qualcosa di cheap. Come vi dicevo, Kelk Flair l'originale, che è quello che vi sto appunto presentando e di cui vi parlerò, è una fragranza che è stata riformulata nel 1985 e che rilancia, riporta in auge insomma questo grande classico della profumeria che è stato realizzato nel 1912. Ovviamente non è lo stesso, la formula originaria di Kelk Flair è custodita gelosamente nel cavo della Maison ed è un profumo che è stato realizzato da Robert Biennale, spero di averlo pronunciato bene. Kelk Flair è una fragranza aldeidata, quindi è una fragranza che contiene delle aldeidi non in quantità enormi come nel caso dello Chanel numero 5, ma sicuramente una delle prime fragranze a contenere queste componenti, a contenere le aldeidi. Non la prima, ma una delle prime. Quindi sicuramente le aldeidi fanno sì che la fragranza si apra in questo modo super luminoso, con quel tocco sopi, saponoso che caratterizza tutta la fragranza. Il profumo è passato alla storia ed è famosissimo soprattutto per il fatto che è il primo bouquet floreale della storia. Quindi non è un profumo incentrato in un solo e unico fiore, ma contiene davvero un bouquet di fiori. Chissà, forse il profumiere fu ispirato da quello che è lo stemma, da quello che è proprio il simbolo della Maison O'Vigan fin dall'inizio, però fin dal 1700. E questo stemma è la Corbeille des Fleurs, cioè proprio il cesto di fiori, che è molto molto grazioso e che ancora oggi si trova su alcuni packaging. Anche se il cake flare significa letteralmente qualche fiore, in realtà è un po' modesta come definizione, perché in realtà il cake flare contiene davvero una grande quantità di fiori. La leggenda vuole che per realizzare una sola oncia di cake flare furono necessari, e sono necessari circa 15.000 fiori, e 250 differenti materie prime. Quando uscì nel 1912 sicuramente doveva apparire come un profumo d'avanguardia, nuovo, che portava proprio una ventata di novità. Una fragranza molto innovativa, e infatti pare che donne del calibro di Anna Oc, un'artista dadaista che io amo tantissimo, e che sicuramente ebbe una personalità super creativa fuori dagli schemi, e mi pare che appunto cake flare fu il profumo preferito di Anna Oc. La versione del 1985 è sicuramente una versione tipica, o comunque che ha molte caratteristiche tipiche dei profumi degli anni 80, quindi molto luminoso, molto esuberante, una fragranza che si fa sentire, una fragranza abbastanza chiassosa, anche se rimane comunque molto elegante e addirittura regale. Tra l'altro sembra che Lady Diana lo utilizzo per il giorno del suo matrimonio, e pare che un'intera boccetta di cake flare originale fu vaporizzata sul suo meraviglioso abito. Fu un profumo molto amato e apprezzato anche dal poeta Rilke, che sembra che lo utilizzasse sotto forma di lozione e sapone per il corpo. La fragranza del 1985 pare sia più animalica rispetto a quella originale, che era più fiorita e aldeidata. L'apertura della fragranza è molto verde, quindi immediatamente la fragranza si presenta come un floreale, aldeidato, luminosissimo e verde. Molto molto verde. Ma piano piano, con il tempo, con il passare dei minuti, anche delle ore, comincia proprio a fiorire questo cuore, che contiene una quantità enorme di fiori. Se avete un'occhiata alla piramide sul sito di Ubihan, vi renderete conto di quanti fiori ci vogliono per la realizzazione di questa meraviglia. E devo dire che la base è quella che mi piace di più, almeno sulla mia pelle, sui miei vestiti, perché è avvolgente, calda, ma non perde mai quel tocco di pulito, di saponoso che contadistingue la fragranza e che ha proprio l'aria di una fragranza di russo, cioè odora di sapone di russo, quindi un sapone elitario, esclusivo, è davvero molto molto bello. Nonostante contenga tutti questi fiori, non pensiamo a una fragranza, diciamo, iperrealistica, cioè non pensiamo che all'interno di cake fair si possano distinguere i singoli fiori, o almeno questa non è la mia percezione. La mia percezione è quella di un bouquet astratto, quindi una serie di materie prime che sono amalgamate in maniera magistrale e danno questo sentore fiorito, saponoso, cremosissimo, davvero molto molto elegante. Se vogliamo un po' old school, se vogliamo un sentore un po' vintage, però non aspettiamoci qualcosa di importabile, anzi, secondo me questa è una fragranza molto portabile ancora oggi. Per quanto riguarda la posizione e la durata, questo profumo è davvero fantastico, è uno dei profumi più duraturi che ho e anche la scia è davvero imponente, è importante, quindi se vi piacciono i fioriti, se vi piacciono i fioriti opulenti, imponenti, un po' old school, sicuramente vi consiglio di sentire questa fragranza, che è Kirk Flair Original. Successivamente, nel 2009, è stato creato un altro profumo che ha più o meno lo stesso nome, ma è una fragranza completamente diversa, ed è Kirk Flair Royal. Io possego un bellissimo sample che mi è stato regalato da Paola, che è saluto tantissimo. Vedete come appunto qui, sul cartoncino del sample, si vede la corveille de flares, quindi proprio il cesto di fiori, lo stemma tipico della Maison. Kirk Flair Royal è sì, un profumo molto molto fiorito, ma è anche una fragranza al miele, quindi qui la freschezza dei fiori è combinata alla dolcezza cremosissima del miele e della vaniglia. Vi farò una recensione, proprio, diciamo, interamente dedicata anche a lui. Sicuramente il Kirk Flair Royal è una fragranza più moderna, più adatta a chi non ama i sentori vintage di una volta. Siamo arrivati alla fine del video, spero tanto che vi sia piaciuto. Fatevi sapere nei commenti se conoscete Kirk Flair l'originale, se vi piace e cosa ne pensate. Grazie di avermi seguito fino a qui, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.